Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti a questo speciale episodio delle avventure di Tano, l'uccitore di demoni. In questa puntata ci dedicheremo a qualcosa di senz'altro desueto per noi, ovvero il PvP. A tal fine utilizzeremo un oggetto misterioso, la pietra occhio nero. Si tratta di una pietra occhio non dissimile da quella blu o da quella bianca che, come recita la sua descrizione, permette di invadere un altro mondo. Una pietra occhio che è sottratta uno spettro nero. Quando muori e sei in forma di anima, usa questo oggetto per invadere un altro mondo. Quando entri nell'altro mondo sarai in forma di spettro nero. Se riesci a sconfiggere il guerriero in quel mondo, risorgerai con il tuo corpo. E' quindi una pietra occhio divenuta nera, probabilmente perché il suo proprietario è morto divenendo Black Phantom, finendo per influenzare la pietra stessa. Usiamola allora per invadere e ottenere non solo la vita per ogni invasione, ma anche una tendenza nero pura del personaggio. Il motivo? Beh, lo scoprirete nella prossima puntata. Purtroppo l'online è un po' deserto ultimamente, quindi non posso garantire il successo dell'operazione. Speriamo solo di trovare qualcuno che si... Oh! Ha funzionato! Il primo tentativo! Grandissimo! Che! 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 Che Che! 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 Che Che! 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 Che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.